ciao a tutti andiamo a fare un interattivo in questo interattivo andremo a vedere quali sono le energie e gli stati d'animo che vivrà vivrai nella prossima settimana se che tu stia vedendo il video proprio quando l'ho girato sia che tu lo stia vedendo più avanti infatti questo tipo di consulto arriva a te nel momento giusto e per la legge d'attrazione e quindi potrai fare riferimento al suo responso nel momento in cui lo guardi quello che dovrei fare semplicemente scegliere tra questo quarzoialino questo quarzo citrino e la metista quali sono qual è diciamo la stesura che che preferisci ti chiedo di concentrarti su quella che appunto la questione delle energie e delle emozioni che andranno a caratterizzarti nella prossima settimana concentrati su questo io vado a stendere le carte per te e scegli una di queste pietre quando l'hai scelta scrivila nei commenti perché questo come ti dico sempre ti aiuta ad andare a focalizzarti su quelle energie quindi magari prenditi un attimo fermati un attimino quando vedi le carte stese per concentrarti su quello che effettivamente vuoi andare a richiamare perché poi noi andiamo a richiamare con la legge da attrazione ciò di cui veramente abbiamo bisogno queste sono per il quarto citrino che vedi qua ci sono per il quarto citrino e queste per la metista quindi gialla e viola come ti dicevo se vuoi prenditi un attimo per scegliere il mazzetto che ti risuona di più è una volta che scelto scrivilo nei commenti e successivamente passa alla all'ascolto delle delle stesure inizio subito con per con la lettura per chi ha scelto la pietra chiara trasparente che è un quarzo ielino le carte ci dicono probabilmente ti sentirai un po in trappola in questo in questo momento è come se se tu fossi un po bloccato da una scelta qualcosa che devi fare però devi andare avanti e questo sarà il momento in cui ti sentirai in questa settimana sentirai che è arrivato il momento di andare avanti uscire un po da questa situazione dove ti eri un po ancorato dove ti eri un po ancorata dove ti sentivi un po in trappola è il momento di andare avanti perché sentirai che una volta che avrei preso la decisione di andare avanti riuscirai a sentirti più predisposto ad accogliere e passare proprio al nuovo diciamo che è proprio come se fosse un passaggio le carte ce lo dicono chiaramente c'è una situazione di stallo devi muoverti per arrivare a ottenere qualcosa di nuovo una nuova abbondanza quindi sia che tu ti sei ancorato in una relazione sia che tu ti sei ancorato in una risposta che attendi che non arriva in qualsiasi situazione tu sia un lavoro in una scelta sostanzialmente una scelta un qualcosa di bloccato che però in parte dipende da te dice sempre in qualche modo una scelta che dobbiamo fare su qualcosa ti sei fermato lo sbloccarsi perché queste energie energie di questa settimana ti dicono che potrai sbloccarti ti porterà ad una una crescita materiale riuscirai materialmente ad avere qualcosa di più quindi un qualcosa che parte dalla nostra psiche dalla nostra emotività ci porta in realtà a ottenere un risultato concreto e materiale questo è quello che stanno dicendo le carte per te che hai scelto il quarzoialino se invece hai scelto la pietra gialla e quindi il quarzo citrino vediamo qual è il bellissimo qual è il risponso le carte dicono che è il momento ti sentirai in una fase di fermento di nuovo inizio e un movimento sentirai di una sensazione di progredire cioè sentire di progredire sentirai che è arrivato il momento finalmente della trasformazione e questa trasformazione ti caratterizzerà nella prossima settimana tu sentirai proprio che sta nascendo in te questo grande cambiamento quindi quello che dovrai fare semplicemente assecondarlo quindi quello che ti dice il tuo cuore e che stai cambiando e che stai facendo un cambiamento che però è positivo è solamente positivo un nuovo inizio quello che devi fare è assecondarlo e trasformare quello che senti nel cuore ma trasportandolo nella mente andando per esempio a fare qualche cosa di imprano il pratico nel concreto che ti porterà ad ottenere effettivamente qualche cosa di nuovo quindi ciò che senti nel cuore va trasformato perché proprio si parla di trasformazione va trasformato e devi utilizzare semplicemente la mente per fare questo cambiamento positivo se stai pensando di intraprendere un nuovo una nuova professione magari devi semplicemente fare un corso fare formazione cercare questo nuovo lavoro se stai pensando di avviare una nuova attività è il momento di iniziare a informarsi su cosa fare per poter andare avanti e quindi passare a questo nuovo inizio se stai pensando di imparare qualcosa di nuovo è il momento di decidere e di farlo siamo quindi nella fase di una grande trasformazione e questo se hai scelto la pietra gialla se hai scelto invece la pietra viola vediamo che cosa succede se invece hai scelto questa questa pietra viola un po come ci parlano anche lo stesso il colore della profondità ci parla di ci dicono queste carte che hanno un tono magari meno hanno toni più cupi dal punto di vista della cornice sono per occhi psicologici quindi ci aiutano anche in questo in questo percorso quello che ci viene detto è che devi andare a lavorare su quella che la tua saggezza interiore e devi in qualche modo trovare del tempo per te per magari isolarti un po chiuderti un po in te per andare a lavorare su quelle che sono un po anche le tue ombre quindi devi andare a comprendere dei lati di te magari che tieni un po nascosti chiusi nel profondo perché andare a analizzare questo è fondamentale per te in questo momento ti sentirai in questo momento molto introspettivo quindi la sensazione emotive emozioni che proverai e quelle di necessitare di comprendere di più di voler andare nel tuo profondo di comprendere situazioni in cui ti senti sentirei magari l'esigenza di chiedere qualcuno anche magari consiglio quello che devi fare però in questo momento è di fermarti e riflettere fare emergere la tua parte saggia se quel senti emotivamente che devi prenderti del tempo per analizzare qualcosa perché effettivamente questo a livello evolutivo è fondamentale per te in questo momento quindi abbiamo avevamo stesure abbiamo avuto l'opportunità di leggere stesure di trasformazione ma abbiamo anche qui una stesura di che ti dice fermati un attimo perché la tua saggezza ti sta dicendo che in questo momento hai proprio bisogno di andare ad analizzare quelle che sono un po le tue ombre per comprenderti meglio se questo ti viene detto dalla tua emotività è giusto farlo in queste invece in queste carte noi vediamo come come vedi una un nuovo inizio la necessità di muoversi di andare avanti per creare una trasformazione se senti questo fermento in te è proprio perché hai bisogno di far questo invece in queste carte vedi che hai se in qualche modo bloccato dalla dalla paura di agire c'era qualcosa che ti bloccava che ti teneva lì fermo adesso è momento di andare avanti per poter ottenere anche dal punto di vista concreto e materiale dei cambiamenti queste sono le tre letture spero che tu ti veda in questo fammi sapere cosa ne pensi se vuoi ricevere notifiche quando pubblicherò i prossimi prossimi video i prossimi interattivi video dedicati alla spiritualità ma anche all'aromaterapia devi solamente iscriverti al canale e cliccare sulla campanella su tutte in modo tale che ti arrivino tutte le notifiche grazie per essere stato qui con me a presto tanta luce ciao